A seguito del comitato istituzionale, l'ultimo passaggio che si è tenuto a Roma a fine luglio al Ministero dell'Ambiente, dopo la preparazione della pratica il sottosegretario una quidicina di giorni fa ha firmato praticamente il verbale di approvazione di questa riperimetrazione. Adesso l'autorità di Bacino sta pubblicando sulla gazzetta ufficiale congiuntamente ad un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio che vanno a chiudere l'intero iter burocratico amministrativo, per cui dopo di ciò praticamente la riperimetrazione sostituisce le vecchie zone rosse. Intanto voglio dire che una novità di questi giorni è che abbiamo ottenuto un finanziamento regionale su mia richiesta per lo studio sulle zone rosse che è stato praticamente dirottato direttamente all'autorità di Bacino per 235 mila euro. 690 mila euro le tenevamo sempre per questi studi arrivarono dal Ministero dell'Economia, per cui noi andiamo a coprire tutto quanto il costo, quindi i 950 mila euro necessari per fare gli studi sul territorio, per la riperimetrazione e ripeto sono stati consegnati anche gli elaborati per il piano regolatore generale, per cui anche il piano regolatore generale ci saranno meno costi perché alcuni lavori sono stati già realizzati a supporto per poterlo fare, il tutto praticamente con questa operazione non ci è costato nulla, nel senso che sul bilancio comunale i cittadini di Cervinare per questo studio non hanno contribuito nemmeno per un euro. È un risultato importantissimo, non so quanti paesi che stanno facendo fare gli studi facciano la stessa cosa. Noi ci siamo riusciti attraverso questi due finanziamenti. I benefici quali sono? I benefici già sono presenti sul territorio perché ad esempio se il palazzetto dello sport sussisteva in zona rossa noi non potevamo fare il finanziamento. Stessa cosa dicasi per la scuola in via Renazzo che stiamo facendo o per la scuola di via San Cosma che è in corso adesso la riassegnazione per completare i lavori. Voglio dire alcune cose non le avremmo potuto fare. I cittadini del Canto Loro che andranno in zona bianca possono adottare il piano casa oppure quelli che stanno in zona edificatoria possono costruirsi la casa, cosa che non era possibile con le zone rosse. E quindi questo è un primo vantaggio che si fa riflettere sul territorio. La ricostruzione se non era zona bianca come avrebbero potuto prendere l'abitabilità quei cittadini che dopo tanti anni si sono ricostruiti la casa ed è un altro riflesso derivante da questi studi. Ma la cosa più importante è che l'autorità di Bacino a seguito di questo progetto pilota non si è limitata solamente a fare gli studi 1 a 5 mila sul territorio ma si è posto il problema della messa in sicurezza della montagna. Quindi non solo facciamo gli studi ma andiamo anche ad intervenire là dove bisogna intervenire. Intercettando la bellezza di 9 milioni di euro in un momento di grande crisi economica il Ministero dell'Ambiente grazie all'autorità di Bacino ha destinato 9 milioni di euro sul Cervinale. Il primo intervento che sarà del giorno 29 del progetto definitivo che sono l'autorità di Bacino e anche ente attuatori riguarderà la costruzione di un invaso nel torrente Conga per 3 milioni di euro e sono in corso di elaborazione gli altri progetti dove loro ritengono bisogna intervenire. Parliamo del torrente del Vallone San Gennaro, parliamo di Castello, parliamo di Pirozza. Quindi noi ci siamo posti ricapitolando riperimetrazione di zona rossa, terreno e abitazioni che vengono liberate da questi vincoli. Per questi studi non abbiamo consumato nemmeno un euro, stiamo facendo anche la messa in sicurezza recuperando 9 milioni di euro sul territorio e in più possiamo oggi a seguito di questa ufficializzazione cominciare a pensare all'elaborazione di un BUC, che il BUC se non togli le zone rosse non si poteva elaborare o quantomeno creavamo praticamente un BUC inservibile dal momento che era ricco di vincoli.